Grazie! Buongiorno Italia! Ma che cazzo è successo a queste nazionale? C'è l'ho ancora qui! Ma l'ho mangiato due giorni! Ma la gloria di Roma e la storia che mi ha messo nel mondo non morirà mai? The final war! The final war! Spesso e rotatomacchi! Grazie per la visione